Aperto i battenti oggi la nuova sala ristoro dell'azienda per il diritto agli studi universitari in pieno centro nei pressi di piazza Duomo, una mensa con 90 posti che prima era collocata nell'ex Campomizi che ora viene restituita al demanio proprietario della struttura. La sala sarà aperta a pranzo e cena e anche di sabato e di domenica. L'attivazione della mensa in centro rappresenta per Lazio anche un beneficio per l'intero sistema socio-economico cittadino per il quale le istituzioni sono impegnate da tempo nel riportare l'università e gli studenti in centro. Il punto ristoro è nella stessa struttura che ospita gli uffici del Lazio e prevede anche spazi per la socialità. Da stime si calcola che sarà frequentata da circa 300-400 studenti al giorno. È un importante evento per la città, per la provincia, per la regione e per tutti gli studenti, in particolar modo per loro che da oggi possono soffrire di un ulteriore servizio messo a disposizione dall'azienda al diritto allo studio. Questa struttura incardina in sé una strategia volta soprattutto a riportare in centro una serie di attenzioni tra cui anche quello il diritto allo studio. I giorni di apertura sono quelli che sono stati già garantiti nelle diverse strutture e vedremo nell'ipotesi in cui la struttura sia in grado di ospitare e di aumentare ancora di più i numeri. In particolar modo questa mattina abbiamo deliberato prima di questa importante inaugurazione il bilancio di previsione 24-26 e contestualmente un bellissimo progetto di mobilità sostenibile sarà ad opera ed organizzazione dell'azienda al diritto allo studio la predisposizione di una serie di biciclette elettriche a disposizione per gli studenti. Questa è una cosa freschissima appena deliberata proprio per dare un slancio a questa azienda nei confronti degli studenti garantendo loro non solo i servizi quelli costituiti dalla Costituzione del diritto allo studio ma anche per aumentare la vivibilità di questa città con delle semplici biciclette. Premesso che nella programmazione delle opere strategiche previste da questa azienda è stata già deliberata la ricostruzione della casa dello studente presso l'ex sede della Carducci e riorganizzare tutta l'azienda all'interno del centro storico è il nostro obiettivo. Oggi le strutture da noi utilizzate sono comunque collegate, siamo in stretto contatto con le aziende di trasporto per garantire e per migliorare sempre di più il servizio offerto. Questo però è in una fase di transizione rispetto alla più grande progettualità che prevede di riportare la struttura della casa dello studente in centro, un servizio mensa come quello che vedete in questo centro di cottura e anche a parte amministrativa.